le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 8 geppetto rifà i piedi a pinocchio e vende la propria casacca per comprargli la abecedario il burattino appena che si fu levata la fame cominciò subito a bofonchiare a piangere perché voleva un paio di piedi nuovi ma geppetto per punirlo della monelleria fatta lo lasciò piangere e disperarsi per una mezza giornata poi gli disse e perché dovrei rifarti i piedi forse per vederti scappar di nuovo da casa tua vi prometto disse il burattino singhiozzando che da oggi in poi sarò buono tutti i ragazzi replicò geppetto quando vogliono ottenere qualcosa dicono così vi prometto che andrò a scuola studierò e mi farò onore tutti i ragazzi quando vogliono ottenere qualcosa ripetono la medesima storia ma io io non sono come gli altri ragazzi io io sono più buono di tutti e dico sempre la verità vi prometto babbo che imparerò un'arte e che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia geppetto che sebbene facesse il viso di tiranno aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla passione di vedere il suo povero pinocchio in quello stato compassionevole non rispose altre parole ma presi in mano gli arnesi del mestiere e due pezzetti di legno stagionato si pose a lavorare di grandissimo impegno e in meno di un'ora i piedi erano belle e fatti due piedini svelti asciutti e nervosi come se fossero modellati da un artista di genio allora geppetto disse al burattino chiudi gli occhi e dormi e pinocchio chiuse gli occhi e fece finta di dormire e nel tempo che si fingeva addormentato geppetto con un po' di colla sciolta in un guscio d'uovo gli appiccicò i due piedi al loro posto e glieli appiccicò così bene che non si vedeva nemmeno il segno dell'attaccatura appena il burattino si accorse di avere i piedi saltò giù dalla tavola dove stava disteso e principiò a fare mille sgambetti e mille capriole come se fosse ammattito dalla gran contentezza per ricompensarvi di quanto avete fatto per me disse pinocchio al suo babbo voglio subito andare a scuola bravo ragazzo ma per andare a scuola ho bisogno di un po' di vestito geppetto che era povero e non aveva in tasca nemmeno un centesimo gli fece allora un vestituccio di carta fiorita un paio di scarpe di scorza d'albero e un berrettino di midolla di pane pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena d'acqua e rimase così contento di sé che disse pavoneggiandosi paio proprio un signore davvero replicò geppetto perché tienlo a mente non è il vestito bello che fa il signore ma è piuttosto il vestito pulito a proposito soggiunse il burattino per andare alla scuola mi manca sempre qualcosa anzi mi manca il più e il meglio cioè mi manca l'abecedario hai ragione ma come si fa per averlo è facilissimo si va da un libraio e si compra e i quattrini e io non ce l'ho nemmeno io soggiunse il buon vecchio facendosi tristo e pinocchio sebbene fosse un ragazzo allegrissimo si fece tristo anche lui perché la miseria quando è miseria davvero la intendono tutti anche i ragazzi pazienza gridò geppetto tutta un tratto rizzandosi in piedi e infilatasi la vecchia casacca di fustagno tutta toppe e rimendi uscì correndo di casa dopo poco tornò e quando tornò aveva in mano l'abecedario per il figliuolo ma la casacca non l'aveva più il pover uomo era in maniche di camicia e fuori nevicava e la casacca babbo l'ho venduta perché l'avete venduta perché mi faceva caldo pinocchio capì questa risposta a volo e non potendo frenare l'impeto del suo buon cuore saltò al collo di geppetto e cominciò a baciarlo per tutto il viso